Incredibile quello che è successo in Texas. Delle monache si schierano contro il Papa. Vogliamo la messa in latino. Abbiamo con noi Padre Fulgenzio da Botricello, un calabrese, che risponde a quanto è successo in Texas. Padre Fulgenzio, lei chiama da Botricello. Che cosa ha da dire a riguardo? Intanto vorrei ricordare che non mi chiamo Padre Fulgenzio e vi ringrazio per aver utilizzato un altro nome invece del mio personale. Ovviamente capirete la situazione molto difficile in cui mi trovo e comunque parlare nella Chiesa è difficilissimo. Scusate, mi hanno mandato una cosa dal convento qua vicino. Io volevo dire che io non sono d'accordo con queste monache per quanto riguarda la questione di principio. Però per quanto riguarda la messa in latino, in un'altra lingua, non è sbagliata. Perché comunque facciamo questo tipo di ragionamento. Io per esempio, per mio conto personale, a me mi piacerebbe moltissimo se fanno una messa in calabrese. Non lo so, sarà un romantico, non lo so. Comunque da quando ero bambino io ho sempre pensato che dovevano fare una messa in calabrese in modo tale da fare capire anche la gente del popolo, il popolino. Che tu mi fai dalla traduzione dal latino all'italiano. La gente qua non è che lo capisce l'italiano. Per cui io chiedo personalmente alle autorità, alle autorità, insomma ai vertici del Vaticano di fare la messa in calabrese. Anche perché noi, guardate, vi faccio un esempio. Quando noi diciamo Missa Este in latino, noi qua diciamo Missa Este, che vuol dire, vedete che c'è la messa, va bene? È una tradizione che viene da lontano, ma che sposa il nostro popolo, la nostra gente, tutti quelli che vengono a messa qua a Botticello. Noi siamo una grande comunità. Se il Papa mi fa questa cortesia, che mi fa la messa in calabrese, io lo ringrazio. E ovviamente poi possono fare la messa in napoletano, in milanese, in bugliese. Come è meglio credere la popolazione, in modo tale da fare capire pure alla gente. Quindi io sono completamente d'accordo a metà con le suore. Padre Fulgenzio, c'è qualcosa di particolare che lei vuole chiedere al Santo Padre? Ma io con profondissima umiltà mi piacerebbe chiedere a Sua Santità se è possibile. Io glielo chiedo sempre se è possibile. Cioè domandare, è lecito rispondere, è cortesia. Se possono avvicinarsi di più alla parola evangelica. Per esempio c'è quel passaggio che dice prese il calice e lo versò ai suoi discepoli e disse fate questo in memoria di me. Quindi ne bevverò tutti. Ora, quello che invece non avviene attualmente nel mondo moderno, nelle nostre messe, è appunto la condivisione del vino. L'ostia sì, che poi tra parentesi è veramente una cosa troppo fina. Io direi un pezzo di pane sarebbe più adeguato, anche diciamo di 4-5 mm più spesso. Però il vino no, non viene condiviso. Lo beve solo il prete. Ora, io vado contro i miei interessi, però onestamente sarebbe una cosa più giusta e molto più cristiana se il vino viene anche... Come dice il Vangelo, prendete e bevetene tutti, fate questo in memoria di me. Grazie a voi per questa intervista. Io vi seguo sempre, sempre su Tiki Toki.